Solo una settimana fa l'elezione del forum dei giovani, con noi il delegato Luigi Primario. Finalmente abbiamo istituito l'assemblea, ci siamo, abbiamo anche la prima riunione, la prima assemblea convocata dal consigliere con delega, quindi da me, e con la nomina anche del presidente, quindi da oggi siamo operativi. Ufficialmente abbiamo il forum, abbiamo istituito appunto questo ente molto particolare che permette di avere all'amministrazione un braccio operativo ma soprattutto un netto collegamento con i giovani e il tessuto sociale della nostra isola. Quanto anche Capitale della Cultura può aiutare questi giovani e quanto invece anche il contrario, caro Luigi, cioè che i giovani possono aiutare Procida e la sua candidatura e quindi per la riuscita al meglio di Procida Capitale della Cultura? È fondamentale in generale questo doppio apporto perché sia all'interno proprio del dossier in generale abbiamo come obiettivo proprio la possibilità di lasciare qualcosa, ma qualcosa verrà lasciato ovviamente alle nuove generazioni, quindi ai giovani. Quindi da questo punto di vista sono loro che saranno sia il motore attivo sia in generale ovviamente i destinatari effettivi di ciò che Procida Capitale della Cultura, lascerà al termine ovviamente del suo percorso ovviamente, alla fine ovviamente di tutto il percorso dell'anno prossimo. C'è stata una bella partecipazione, abbiamo visto molto sui social, tu ti sei molto impegnato perché partecipassero davvero davvero tanti giovani, quasi uno su due, siamo arrivati a un numero eccezionale. Quando la tua esperienza precedente poi ha influito questo e quando poi ti sei sentito oggi dall'altro lato la responsabilità di guidare questi ragazzi? Non è stato facile, è una bella domanda. Avendo fatto l'altra parte del percorso, oggi trovarmi di là, infatti fu uno dei primi messaggi che lanciano, non è facile per me ora gestirlo, quindi dalla parte ovviamente organizzativa. Per me è stato un risultato fondamentale, abbiamo raggiunto veramente, grazie a tutti i ragazzi che si sono veramente mossi con entusiasmo, che hanno appunto coinvolto 900 persone su 1990, quindi alla fine è veramente quasi uno su due. Un'ottima percentuale, per me è un risultato veramente alto che io speravo e che fortunatamente si è verificato. Quindi da questo punto di vista io anche appunto con la conoscenza di ciò che è stato, quindi in generale del percorso fatto, cercherò appunto di indirizzare meglio questo nuovo gruppo perché ovviamente dagli errori si impara o comunque in generale dall'esperienza più che dagli errori. Si va avanti e si superano ma soprattutto per portare a casa nuovi risultati. In generale sono ragazzi che ho visto molto volenterosi, spero che non perdano mai l'entusiasmo, hanno davanti tanti anni di lavoro e spero appunto di trovare una piena collaborazione su qualunque tipologia di evento proposto da parte mia a loro o da loro a me diciamo.